Temperature elevate, nonostante la stagione estiva conclusa, c'è chi ancora approfitta delle belle giornate per godersi ore di sole e la vista del mare. Sono gli irrinunciabili della tintarella che a metà ottobre sono presenti nelle spiagge. Se gli operatori balneari hanno definitivamente concluso la stagione estiva smontando le proprie concessioni da ombreloni lettini, le spiagge anche se apparentemente selvagge fungono da scenario per coloro che non rinunciano a momenti di stacco della vita quotidiana per abbronzarsi o più semplicemente fare un tuffo in mare. Come è stato fare il bagno? Stupendo, è meglio che d'estate, non si sente la differenza quando si entra per cui è stato molto bello. Temperatura dell'acqua? Normale, dopo due minuti che sei dentro è tutto normale. D'estate ho più problemi perché sento la differenza del calore, quando entro sento fredda, così non si sente, si entra a normali. Lei di solito entra in acqua in questi mesi? Capita così, non è che sia un nuotatore, però preferisco questo periodo. C'è ancora chi non vuole perdere la sana abitudine della vacanza e continuano a trascorrere il più tempo possibile all'aria aperta, favorita dalle temperature meno ardenti e le giornate ancora lunghe, approfittando per una passeggiata o per fare sport oppure una bella pedalata in bicicletta. La maggior parte di Fanesi invece impazzisce per il mare che regala ancora la sensazione piacevole della vacanza estiva. È una giornata meravigliosa, io oggi ho lavorato da casa e però ho deciso di prendermi una mezz'oretta per prendere una boccata di ossigeno e vivere a Fano permette questo ed è bellissimo. Quindi mese di ottobre, mese giusto insomma. Mese di ottobre, mese giusto per godersi l'acqua, anche il mare e la passeggiata alla Marina dei Cesari, bellissima, sì, in ottima compagnia con un amico, sì. C'è chi fa ancora il bagno, voi invece? Guarda, non siamo attrezzati, però un pensiero c'è, devo dire, sì. Di solito vieni al mare durante questi mesi? Oggi è stato un caso, è stato proprio un caso, poi non sono neanche di qui, quindi sono venuta a fare un giro e poi mi sono formata così. Il bagno invece lo fa? No. È bene, è bene, io ho nuotato fino adesso, mi ha fatto un'oretta di nuoto, sta benissimo. Temperatura dell'acqua? È sui 20 gradi, però ancora si sta bene, dai, è molto molto bello, è da gusto. Un mese ottimale per venire ancora al mare. Sì, sì, un saluto a tutta Fano, statemi bene e venite al mare.